amiche amici di ciclo web del tour de france oggi giornata da fuga in quel di Brioud la patria di Romain Bardet ha vinto Dary Limpi appunto nella fuga in classifica non è successo praticamente niente però oggi è successa un'altra cosa nel mondo dello sport e vorrei concentrarmi un attimo su questo fatto su questo evento cioè Alejandro Valverde alla bella età di 38 anni ha vinto per l'ennesima volta Wimbledon quindi faccio un grande veramente mando un grande abbraccio ideale al campione mursiano per questa sua ennesima vittoria accolta poi da tutti nel mondo dello sport e non solo con grandi ovazioni grandi sdilinquimenti applausi abbracci amore sconfinato per questo tennista che veramente ha scritto la storia di questo sport un tennista che tra l'altro ha una vicissitudine una storia particolare perché cinque anni fa sembrava finito poi invece è tornato e ha vinto è tornato a vincere le tornei del grande slam e insomma che dobbiamo fare se non toglierci il cappello di fronte a questo fenomeno che ancora a 38 anni continua a ottenere risultati eclatanti ammirati da tutti ammirati non come per esempio succede in un altro sport il ciclismo per esempio laddove l'anno scorso tanto per dire una cosa Roger Federer ha vinto il mondiale alla stessa età di Valverde quest'anno però questa sua vittoria è stata accolta sì con compiacimento da qualcuno però anche con una serie di dubbi da altri che dicevano va bene ma come fa questo a 38 anni essere ancora così vincente ma come fa questo qui a questa età a essere più forte di quando aveva dieci anni di meno ma come fa questo qui a essere così competitivo a essere ancora così vincente a riuscire a gareggiare ancora per tutto l'anno praticamente sempre ad alti livelli ma come fa questo qui superati i 30 anni o i 35 essere ancora così forte nei grandi giri a ottenere risultati che non otteneva neanche a 25 anni come fa come fa come fa queste sono domande retoriche la cui risposta poi porta sempre in una stessa direzione quella del doping allora ora voglio uscire da questa turbolenta metafora da questo turbolento paradosso e richiamare poi le cose col proprio nome perché noi del ciclismo siamo così tafazzi da martellarci da soli gli zebedei mettere negli altri sport questo non succede perché noi siamo portati a dubitare sempre delle prestazioni dei nostri beniamini c'è sempre qualcuno che tirerà fuori qualche ombra qualche dubbio qualche onta qualche macchia e non ci si può fare niente siamo a quanto pare condannati a questo mentre in altri sport come appunto il tennis non succede nessuno si pone il minimo dubbio il tennis come il calcio come altri tutta una serie di altre discipline allora noi scontriamo due cose sostanzialmente una è la narrazione e l'altra il senso comune la narrazione è quella che affonda le proprie radici in una lunga storia di doping che non possiamo né nascondere né negare e che ha indubbiamente travolto il ciclismo qualche anno fa poi il ciclismo è riuscito a dare una risposta politica a questa piaga e cioè introducendo il passaporto biologico si è riusciti a calmierare tutta una serie di prestazioni che magari a volte potevano lasciare così dubbiosi per non dire indispettiti e oggi abbiamo uno sport che francamente è molto credibile molto più di altre discipline però il dubbio ci resta sempre perché noi siamo cresciuti con questi imprinting con l'imprinting di questo tipo di narrazione cioè il ciclismo è lo sport dei dopati e anche se i ciclisti si sottopongono a più controlli di tutti gli altri sportivi messi insieme anche se i ciclisti si sottopongono a una disciplina ferrea per quanto riguarda il sistema che prevede che si debbano sempre segnalare gli spostamenti i controllori devono sempre sapere dove si trova il ciclista tutte queste cose noi le dimentichiamo perché poi arriva il momento in cui dobbiamo per forza trovarci di fronte alle equazioni ciclismo doping e non siamo solo noi ma è una credenza popolare questa qui secondo cui il ciclismo è uno sport sempre da sempre e per sempre afflitto dal doping la seconda cosa che ci insomma costringe ad affronteggiare questo problema è il senso comune il senso comune è una delle cose peggiori che esistano a mio modesto avviso ed è il nemico è il nemico numero uno del buon senso ecco il buon senso è una cosa il senso comune è tutt'altro il senso comune è dare sempre una risposta facile e dare sempre una spiegazione semplice a questioni complesse il senso comune è quello che ci spinge a individuare sempre il nemico sbagliato è quello che ci spinge sempre a ragionare con la pancia il senso comune perché è rassicurante e confortante tu ti trovi al bar o per strada o al supermercato con conoscente e si parla del tempo della pioggia del governo di questo e quell'altro e il livello della conversazione del confronto è sempre molto basso perché bisogna sempre dire cose facili la complessità non è ammessa nel senso comune il senso comune è quello che porta tante persone a dire vabbè cosa vuoi che nel tennis cosa conta il doping il colpo il lob il tocco di tecnica la voler o ce le hai o non ce le hai il doping non ti aiuta in quello oppure nel calcio si va bene che senso ha dire che cristiano ronaldo a 35 anni è più forte di quando ne aveva 25 comunque il suo tocco di palla la sua classe la sua tecnica non le acquisisci col doping è vero sarà vero tutto questo oppure ogni sport ha il suo doping che aiuta a migliorare le prestazioni c'è il doping anche nelle bocce anche nel tiro a segno cioè sport che non prevedono un grande dispendio energetico rispetto ad altri sport di fatica e vabbè ma questo vanno a spiegare a chi è imbevuto di senso comune e il ciclismo sconta questo anche il ciclismo uno sport di fatica quindi per forza uno spettatore occasionale del ciclismo deve immaginare ci sia il doping se uno sale in montagna ma come fanno a fare tutti quei chilometri quelle salite durissime senza doping per forza per forza ci vuole il doping questo è il senso comune noi da sempre lo combattiamo questo senso comune e sempre ci ritroviamo ad avere a che fare detto ciò io faccio un grande faccio grandi complimenti a roger feder per questa sua straordinaria vittoria un campione incommensurabile roger feder così come incommensurabile cristiano ronaldo tanto per complimentarmi anche con l'altro sportivo top che ho citato e incommensurabili sono anche tanti campioni del ciclismo che noi seguiamo quotidianamente tutti gli anni e che purtroppo non godono della stessa buona stampa di cui godono tanti campioni di altri sport mi fermo qui vi appuntamento a domani con break tour è comunque sempre viva il ciclismo il ciclismo